Abbiamo detto in occasione del lancio del nuovo brand dell'Ancisi, che rinasceva in qualche maniera l'ospedale cardiologico dentro la struttura di Torrette. Non è solo un brand, non è solo un'immagine, è tanta sostanza. Abbiamo puntato su una grande crescita e qualità professionali che oggi permette di fare cose a massimi livelli su scala nazionale. E' stato fatto con la cardiochirurgia, oggi con questi interventi di grandissimo valore, sono interventi salvavita, sono interventi che vanno a toccare patologie molto diffuse. Segno che nella nostra regione sempre più offriamo la risposta per i nostri cittadini che possono rivolgersi alle strutture con la massima fiducia, potendo contare dall'altra parte in professionisti di altissima qualità.